Io in 30 anni di carriera di questi rigori li ho sempre visti fischiare, però oggi il VAR, arbitri, le valutazioni sono troppo interpretabili secondo me, il calcio ha bisogno di poche regole chiare. Però insomma visto che il VAR c'è almeno, insomma si poteva consultare, abbiamo visto anche dalla panchina, insomma avete fatto anche i gessi, almeno valla a rivedere. Era quello che ci auguravamo anche noi, però io non ho la forza di altri allenatori che contro di noi nelle prime giornate hanno fatto dare un calcio di rigore alla propria squadra. Ricordiamo il rigore di Agazzi contro il Brescia per un tocco molto molto lieve, insomma.